Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo con una carta, ovvero un 10, che come tutti i 10 delle numerali dei tarocchi vanno a chiudere un ciclo. E sto parlando del 10 di bastoni. Ecco perché ti devi immaginare come se fossi arrivato alla fine di un percorso. E alla fine di un percorso ti puoi trovare o con tanta esperienza sul groppone, oppure con un fardello molto importante. Devi fare una defragmentazione della tua essenza, altrimenti hai questi file residui che un po' di qua, un po' di là, un po' più in là diventano troppo 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 grandi. Forse ti senti appesantito e stanco, ma è necessario anche capire che essendo un 10 questa è solo una fase transitoria, nella quale devi solo essere disposto ad impegnarti nel presente per raccogliere i frutti nel futuro. Quindi quando parliamo di un 10 dobbiamo anche fare la distinzione tra il breve periodo e il lungo periodo, come un cambio di ciclo. Nel breve periodo puoi avere delle profondi trasformazioni, nel lungo periodo puoi avere ulteriori trasformazioni, più grandi, più piccole, peggiori, migliori. Mi raccomando però, perché se hai già la naturale tendenza a farti carico di tutti i problemi del mondo, anche quelli che non ti competono e non ti competeranno mai, allora devi valutare se questo fardello di cui poc'anzi abbiamo parlato è realmente necessario. Oppure non è tuo, ecco capisci se è tuo o non è, se non è tuo, non è tuo, cioè occupati del tuo figlio mio, ma altrimenti come riparti con l'anno nuovo che già sei stanco, affranto, distrutto. E un altro aspetto interessante di questa carta è proprio la distinzione tra faccio tutto da solo o mi faccio aiutare. Ecco, a volte l'uomo che non deve chiedere mai è l'uomo degli anni 90. Qua invece ti conviene proprio cercare degli alleati, delle persone che ti possano sostenere lungo il tuo percorso e lungo il tuo cammino. Ecco perché diviene preponderante questa settimana, qualora queste energie dovessero risuonare, se no ti risuono non lascia perdere, lavorare con la domanda campione. Quali compiti o quale attività posso delegare agli altri? Per ora ti auguro un buon lunedì, noi ci vediamo domani con il tiraggio rispetto a questa domanda qua, perché ricordati sempre che la parola chiave quando tiriamo fuori un arcano solo è PERSONALIZZA, facendo tu stesso dei tiraggi a domani.